Ciao da Absim! Una cosa che si sta sentendo frequentemente nella tifoseria juventina o allegrentina è che Andrea Agnelli aveva capito tutto. Ogni volta che si sente parlare dell'Arabia Saudita, della Saudi League, che offrono decine di milioni di euro di stipendio a qualche calciatore allenatore o decine di milioni di euro a qualche club per qualche trasferimento, si dice Eh, ma vedi? Vedi che Agnelli aveva ragione? Ed è veramente pieno, se vi fate un giro, almeno in certi ambienti, di questo luogo comune, vabbè, di questa convinzione, di questa opinione. Perfettamente legittima, eh? Ma come sempre le opinioni andrebbero sostenute anche dai fatti. Altrimenti io posso dire che, secondo me, il cielo normalmente è verde, però non è che penso che faccio una bella figura, onestamente. Poi, sarò anche legittimato a dirlo, però ci sono opinioni e opinioni, diciamo così. Non siamo al punto di dire che il cielo è verde, ma non siamo neanche al punto di dire che il cielo è del colore che è. Cioè, siamo abbastanza lontani dalla realtà. Ed è abbastanza evidente da capire. Se volete, potete fare un riscontro da voi, se non mi credete. Andate sul motore di ricerca e cercate, per esempio, Agnelli Superlega Arabia, quindi questa stringa qui, e già nei risultati più attuali e recenti dovreste trovare ben poca cosa. Ma attualizzando, anzi contestualizzando la questione, dovreste fare una ricerca più o meno all'interno del periodo che va da inizio 2021 all'inizio di quest'anno. Perché l'inizio di quest'anno 2023? Perché Andrea Agnelli esce formalmente di scena a gennaio, con l'ingresso del nuovo CDA effettivo, perché c'era la prorogazio per praticamente un mese e mezzo, dalle dimissioni fino a metà gennaio. Quindi consideriamo ancora Andrea Agnelli attivo come presidente della Juventus fino a gennaio 2023. E andiamo un pochino indietro rispetto al golpe fallito della Superlega di aprile 2021 a gennaio 2021. Poi, se volete, potete andare anche più dietro per andare a rintracciare delle dichiarazioni. Ma non le trovate, perché io di dichiarazioni sto parlando, cioè di associare il termine Agnelli a quello della Superlega. Beh, sì, io confondo Allegri con Agnelli, può capitale, perché c'è molta vicinanza e sovrapposizione tra i due. Potete, insomma, il discorso è di associare Agnelli, Superlega e Arabia, Arabia Saudita, a livello di dichiarazioni, di proclami, di affermazioni, di principio rispetto poi a quello che si deve fare. Perché è quello che si sta dicendo. Si sta dicendo che Andrea Agnelli aveva capito che serviva la Superlega per arginare il potere del calcio arabo. Ora, lo so che quando si tratta di potere del calcio arabo, in realtà, si parla anche di questi club che sono di proprietà, di fondi governativi, eccetera. E quindi possiamo dire il Manchester City, possiamo dire il Paris Saint-Germain. Va benissimo, magari adesso anche il Newcastle. Quella però è un'altra cosa, perché stiamo parlando di due singoli club che hanno uno strapotere economico. Ma rispetto a dei movimenti, rispetto ai quali la Serie A non è più competitiva, e secondo Agnelli neanche la struttura UEFA e quindi la Champions League, non possiamo parlare di Arabia Saudita. L'Arabia Saudita non esisteva, non era presa in considerazione a livello calcistico come rivale, come nemico, come ostacolo, come pericolo, prima di questi ultimi mesi. Vi basta anche qui andare un attimo su Transfer Mart, cercate Saudi League, andate nel menu Trasferimenti e poi andate su Squadre e mettete... Aspetta, dov'è che ho fatto? Andate su Trasferimenti, poi mettete Sottosquadre, esatto, mettete Flusso Trasferimenti. Alla voce Flusso Trasferimenti praticamente vi fa vedere dove, dove sono andati a prendere i giocatori, le squadre della Saudi League, cioè in quali, presso quali altre leghe. E vi dà l'elenco. Se voi andate nel menu alla stagione 22-23, cioè la scorsa, voi non trovate nulla di tutto questo saccheggio. Trovate che la spesa massima in una singola lega fatta dai club della Saudi League fu presso la Qatar Stars League per tre calciatori pagati 7 milioni complessivamente. Poi per lo più acquistavano dalla stessa Saudi Pro League, cioè all'interno tra i loro club, dieci calciatori acquistati dalla Super League turca e poi vari altri paesi, tra cui pure la Premier League, ma un calciatore per 4 milioni e 8. Poi ovviamente tra questi, per quanto riguarda la scorsa stagione, c'era anche già Cristiano Ronaldo, avevano già preso Cristiano Ronaldo, ma è una cosa a parte. C'è stato magari qualche altro a parametro zero. Anzi, in realtà come Svincolati per la precisione me ne dà tre, ma il vero flusso di mercato parte adesso. È partito adesso. Tant'è vero che nella stagione 23-24 finora troviamo 12 calciatori acquistati in Premier League, 304 milioni. Cioè l'anno scorso la spesa massima era 7. 304 milioni. 6 dalla Ligan, 138-139 milioni. 6 dalla Serie A, 110-111 milioni. E poi eccetera eccetera, tutti quanti gli altri, con una spesa enorme, anche 60 milioni in Portogallo, più di 30 nella Liga, 30 milioni in Bundesliga. Quindi è un fenomeno che è iniziato adesso, come possiamo ben sapere, ben percepire. Sono andato a controllare per evitare di commettere degli errori di memoria. Allora se questo fenomeno del saccheggio dell'Arabia Saudita, della Saudi League presso le leghe europee è cominciato nell'estate 2023, cosa c'entra Agnelli con la Superlega? Agnelli voleva fare la Superlega, casomai, per contrastare la Premier League. La Premier League, e lo ha sempre detto, la Premier League. Ma che cosa ho appena detto? Dov'è che gli Arabi hanno speso più soldi? Proprio in Premier League. Poi anche qui c'è uno svincolato, ma per quanto riguarda le leghe, e quindi gli acquisti presso club, comprando il cartellino, al primo posto svetta proprio la Premier League con 304 milioni che hanno speso gli Arabi. Non so se è chiaro. Cioè, Agnelli voleva fare la Superlega per contrastare la Premier League, per competere con la Premier League. Se fosse riuscito a farla, si sarebbe trovato saccheggiato pure lui come la Premier League dagli Arabi. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma proviamo anche ad essere un po' più seri, a mettere diciamo un po' nero su bianco. E allora immaginiamo che Agnelli riesce a fare, Agnelli, Perez, il resto, quindi Juve, Real Madrid, Barcellona, riescono a fare la Superlega ad aprile 2021. Diciamo che il golpe gli riesce, che riescono a fare un sito degno di questo nome, che riescono a gestire la comunicazione in maniera decente, che fanno un accordo che non fa fuggire chi firma dopo due giorni, che insomma va tutto a posto. Dalla sera alla mattina nasce proprio come competizione la Superlega, The Super League, e da agosto 2021 si comincia a disputare. Ci mettono i soldi, le banche, si trova anche sostegno politico, si avvia il torneo, arrivano gli sponsor, i club che sottoscrivono iniziano a partecipare, con o senza numero chiuso non ci interessa, e iniziano a macinare ricavi. Ma secondo voi, in due stagioni, 21-22 e 22-23, quanti soldi mai avrebbero potuto fare questi club con la Superlega, grazie alla Superlega, al punto da contrastare le offerte multimilionari degli Arabi? Ma quanti ne avrebbero potuti fare secondo voi? A stento, ma a stento, sarebbero arrivati a competere realmente in questo calciomercato estivo con le cifre della Premier League. Cioè a stento, ma a stento, ci saremmo trovati in una condizione in cui la Premier League riesce ad offrire magari 10 milioni di stipendio, 15 milioni di stipendio, e i club della Superlega pure. Ma a stento saremmo arrivati in una roba simile. Perché c'erano un sacco di debiti ancora da pagare, e un sacco di deficit ancora da compensare. Non è che erano club brillanti, con dei bilanci a posto, che quindi avevano solo bisogno di nuovi ricavi per fare nuove operazioni. Dovevano prima coprire, ed infatti l'abbiamo visto come sono andate le cose. Anche per quanto riguarda, non solo per quanto riguarda la Juventus, anche per quanto riguarda in particolare il Barcellona. Quindi è chiaro che stiamo parlando del nulla. Però si deve diffondere il luogo comune, la convinzione che Agnelli lo sapeva, che Agnelli aveva capito tutto. No, non c'entra assolutamente nulla. Cioè stiamo veramente confondendo cose che non stanno insieme. Ma questa è la realtà dei fatti, non è la mia opinione. Non è adesso che sto dicendo il cielo è di un colore. L'opinione, l'opinione che non è supportata dai fatti, è quella di chi dice che Agnelli aveva capito. Io in questo di opinione ci sto mettendo zero. L'unica opinione che sto mettendo, ma la potete tranquillamente scartare, è che appunto la Superlega in due anni non sarebbe stata in grado di alzare tutti quei ricavi. Questa è la mia opinione. E mi posso sbagliare 200 milioni di volte. E non avremo però mai un riscontro fattuale, perché non è successo. Ma a parte questo, non era un movimento per contrastare la Premier League. E gli arabi, che nel frattempo in questi due anni comunque sarebbero rimasti fermi, e quindi avrebbero fatto gli stessi soldi per conto loro, sarebbero arrivati comunque a saccheggiare. Forse anche di più. Forse pure prima addirittura. Quindi consentendo ancora meno ai club della Superlega, e alla Superlega, di andare a macinare i ricavi. Che poi stiamo parlando per quanto riguarda gli arabi soprattutto di stipendi. Soprattutto di stipendi, che convincono anche i giocatori a trasferirsi lì. Molto più che di pagamenti per i cartellini. Ma intanto, al di là dei soldi ai calciatori, che sono questioni che guardano i calciatori, riguardano i club indirettamente, perché appunto è una questione negoziale, è una questione di poter convincere i giocatori, è una questione di poter competere sul mercato. Ma a livello di cartellini, chiedete a chiunque, e c'è già chi l'ha detto, Marotta e anche altri, mi sembra in parte anche Lotito, stanno portando soldi veri in un movimento dove soldi veri non ce ne sono più, che è la Serie A. Ora, rispetto a questo, possiamo anche dire che Agnelli aveva trovato la soluzione, che Agnelli aveva trovato una strada, un modo, perché aveva capito le esigenze e i problemi. Però non dobbiamo dimenticare che dopo fallita la Superlega, Agnelli i ricavi in più li va a chiedere a Gravina in quella ormai famosa riunione che era segreta e che abbiamo scoperto tramite le intercettazioni alla Mandria nel settembre 2021. Che è una cosa che ancora, diciamo, qualcuno dovrebbe spiegarci e chiederci scusa. Forse, forse. Quindi, insomma, tutta sta soluzione, al di là che è proprio fallita la Superlega. Cioè, tra l'altro, anche questo, ci si lamenta che non è stato consentito ad Agnelli di fare la Superlega. Ma quando mai? Ma quando mai? Ci sono ancora giornalisti, che quindi come lavoro dovrebbero sapere le cose prima del pubblico, che dopo mesi si svegliano e capiscono che a dicembre scorso l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che non decide ma esprime un parere, non ha detto che la Superlega non si può fare. Ha detto che si può fare. Ma chi la fa deve uscire dalla UEFA. Quindi non c'è stato mai nessun blocco. Che blocco c'è stato? C'è stata tutta quella reazione violenta all'inizio, cioè violenta, quella reazione indignata. I tifosi, il calcio del popolo. Ma io sono d'accordo che il discorso del calcio del popolo è un'ipocrisia. Lo dissi all'epoca. Ma non è che siccome il calcio del popolo è un'ipocrisia, Ceferin non tiene a cuore il popolo e il calcio al che la IFI sta pieno di soldi, il Paris Saint Germain nel Manchester City, allora automaticamente la Superlega è una cosa buona e giusta. Ma ripeto, fatela. Come mai non l'hanno fatta? Come mai non la stanno facendo? Poi è entrata in scena A22, una società costituita proprio nel 2022, credo anche per volere, di Andrea Agnelli e pare che adesso lui lavori per la A22, anche se il CEO è Bernd Reichardt, che sta andando in giro a fare dialoghi, a fare confronti per avviare tavoli di appunto confronto, di dialogo per costruire qualche cosa. Bene, buonanotte, quando avrete finito ci farete sapere. Ma chi è che ha impedito ad Agnelli di fare la Superlega? Allora, si va alla difesa di che cosa? Della persona di Andrea Agnelli? Ma da parte di chi? Di tifosi della Juventus? O sono agnelliani e basta? E sono stati tifosi della Juventus o sono sempre stati solo agnelliani? Ma fossero solo i tifosi? Ci sono anche giornalisti che continuano a dire che Agnelli aveva ragione, che continuano a remare nella direzione di Agnelli, a sostenerlo, a difenderlo, a proteggerlo da critiche che sono, ecco, vedete, anche basate sui fatti. E allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una contaminazione delle argomentazioni, di una contaminazione dei ragionamenti, perché innanzitutto parliamo di un uomo molto potente, che è anche molto ricco. E poi, evidentemente, c'è stata una confusione di ragionamenti e di convinzioni per cui si è pensato che qualcuno abbia impedito ad Agnelli di fare la Superlega, ci furono anche minacce di sanzioni nell'estate 2021, ma ci fu una reazione giudiziaria della stessa Superlega e furono congelate, quindi non c'è mai stata una sanzione, ripeto, ma comunque la Superlega si bloccò per conto suo, che qualcuno quindi gliel'ha impedito, però lui aveva previsto quello che sarebbe successo, no, non aveva previsto quello che sarebbe successo in Arabia Saudita e ripeto, non abbiamo elementi per poter affermare con certezza, mettiamola così, che a Superlega fatta ad oggi da due anni, l'Arabia Saudita non avrebbe aggredito pure la Superlega come ha aggredito in particolare la Premier League. Quindi come se ne esce? Come ho già detto, innanzitutto non demonizzando gli arabi perché si rischia poi anche di andare nella discriminazione e anche se si pensa che lì ci siano delle discriminazioni, bisogna partire dal presupposto che noi occidentali non abbiamo la verità in tasca, non siamo i migliori perché non lo siamo, non siamo i più belli, i più bravi, i più democratici, i più libertari, quelli che concedono più diritti perché non è così, dobbiamo aprirci a conoscere le altre culture con rispetto, poi indubbiamente ci sono dei livelli, c'è chi più e chi meno, chi meglio e chi peggio, ma questo non significa che i soldi arabi sono automaticamente petrol dollari e di conseguenza fanno schifo, sono brutti e cattivi perché i petrol dollari sono dappertutto e quando non sono petrol potrebbero essere macchiati non di un liquido scuro ma di un liquido rosso in alcuni casi e lì non c'entra niente la rabbia sui dita a volte non c'entrano neanche i potentati economici è molto più basilare la cosa ma è meglio non entrare in questi meandri che sono indubbiamente complicati semplicemente è che non bisognerebbe fare i moralisti a convenienza e poi utilizzare dei paladini totalmente posticci che non avevano indovinato proprio nulla ma proprio nulla semplicemente si va a negoziare come è normale che sia perché nella logica del libero mercato tra l'altro quando era l'Italia ad avere i migliori campioni non penso che gli italiani si ponessero il problema che poverini gli altri vengono saccheggiati da noi non mi pare non mi pare quindi è sempre il solito dico quando siamo le pecorelle facciamo le pecorelle quando siamo il lupo va tutto bene facciamo il lupo questo non per adesso fare il moralismo a qualcuno per insegnare nulla a nessuno ci mancherebbe per esprimere la mia opinione e far notare le contraddizioni che ci sono su questo discorso e per affermare con una certa chiarezza che Agnelli non aveva scoperto capito e anticipato nulla relativamente a questo fenomeno del saccheggio della Saudi League grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti like al video se vi è piaciuto partecipate al dibattito anche su Discord link in descrizione con tante chat seguitemi ancora e quindi iscrivetevi al canale attivando le notifiche per i prossimi video e seguitemi anche sul mio secondo canale Avsim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto dopo Agnelli Out senza compromessi sempre Allegri Out Grazie a tutti